Cernobbio, prima località da visitare in Italia, secondo la rivista americana Forbes. Vediamo perché con Laura Carca. Tra i luoghi che gli americani visiteranno in Italia nel 2024, secondo la rivista Forbes, Cernobbio è da mettere al primo posto. Il mito della dolce vita è ancora vivo e se Cernobbio batte Roma, Venezia, la costiera amalfitana, la ragione non è solo il panorama, è anche che cosa si compra per le strade di questo borgo quando viene voglia di fare shopping. Tra i clienti della Sartoria Orefice, fondata nel 1856, tanti VIP americani. Uno dei più famosi è stato Claire Gable con la nonno, poi negli anni 50 possiamo nominare Grace Kelly. Perché Cernobbio? Offre tanto di cultura artigianale. Nei libri contabili traccia di clienti come Pirelli, Fanfani, si trovano dei Kennedy e magnati dell'industria. La richiesta soprattutto degli americani è per abiti su misura. Loro oltre alla qualità, loro sono anche alla ricerca della conoscenza, capire la storia, capire come viene fatto il prodotto, capire tutto quello che c'è dietro la realizzazione dell'abito su misura. Cernobbio, tra i borghi più belli del lago di Cuomo, ha anche il vantaggio di essere vicino a Milano e a Malpensa. E a proposito, c'è anche chi ringraziò all'Italia di avergli perso le valigie. Il governatore di New York, Cuomo, che rimasto senza abiti, si rifece il guardaroba proprio in questa sartoria.